La nostra azienda è la quarta generazione, fra qualche anno festeggeremo i 100 anni della fondazione, quindi è un'azienda a carattere familiare, da sempre si è rivolta alla qualità e all'estrema qualità. Noi curiamo tutta la filiera, dalla pianta fino alla trasformazione all'imbottigliamento, curiamo circa 100 ettari di oliveti marchigiani in biologico e abbiamo usufruito spesso del PSR Marche e questo grazie alla regione Marche perché ci ha dato grande aiuto per stare sul mercato e siamo attenti sempre alla tecnologia, abbiamo il massimo della tecnologia perché oggi per fare oli di grandissima qualità e per essere all'altezza dei migliori oli nazionali e internazionali dobbiamo avere una alta tecnologia. Quindi grazie al PSR che abbiamo potuto fare investimenti importanti e oggi siamo contenti di essere a livello nazionale tra i primi considerati 50 frantogli d'Italia.